Tranquilli, tranquilli, tranquilli Non c'è il mare, ma la sorella non è Ma che sta a metà? 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 Ma che faccia? Ma come si fa? Non mi fanno venire? Ma che faccia? Ma che faccia? Vedi l'acqua si sta formando, vedi l'acqua si sta coprendo, e ora se stai perdendo tutto ciò. Mamma, forza! Grazie a tutti.